Il nostro capitano, il Tuku Pereira. Tuku, ti chiedo quanto pesava quel pallone per quel rigore? Perché la prima vittoria avete scelto il momento giusto per farla, San Siro Colmino. Sì, sì, era un momento speciale, un momento... è vero che ti metti un po' di ansia, ma... ma bene, per fortuna che oggi abbiamo vinto, credo che quello era lo che contava per tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questo mese. Sì, la squadra si meritava questa vittoria, siamo contenti. Forse era destino che la prima vittoria portasse la tua firma, sappiamo che volevi tornare fortemente all'Udinese, l'Udinese ti ha abbracciato, è tutto un po' un cerchio che si chiude questo gol. Sì, sì, è bello, siamo contenti per la vittoria, come ho detto prima, adesso dobbiamo continuare a lavorare, perché c'è tanto da lavorare, da migliorare, come ho detto prima, anche fuori, e nell'altra entrevista siamo tanti ragazzi giovani che hanno arrivato e ancora dobbiamo migliorare, ma credo che siamo la squadra giusta e, come ho detto prima, questa è una vittoria troppo importante per ripartire e per che sia un punto di ripartenza. Cosa è cambiato? Cosa vi ha dato mister Cioffi in queste due settimane scarse? Perché si percepiva un'area diversa negli ultimi giorni, la volevate tanto questa vittoria? Sì, sì, ha cambiato un po' l'aria, questa vittoria l'abbiamo voluto, come abbiamo voluto quelle altre partite, purtroppo le altre le abbiamo pareggiato, qualcuno l'abbiamo perso, ma oggi abbiamo fatto una grande partita, un grande sacrificio, abbiamo avuto l'umiltà di soffrire e niente, per quello penso che abbiamo portato tre punti a casa. Si dedica per i tifosi, anche oggi tantissimi? Sì, sì, come sempre, loro lo accompagnano sempre, questa vittoria se la meritano anche loro, la famiglia anche che sempre è dietro di noi e credo che quello è importante per il sottenio nostro e niente. Contento di questa vittoria, adesso di sfruttare, che dobbiamo pensare già dal martedì alla prossima partita.